E' partito una specie di fara, adesso non è una specie di fara Ma sai che mi sa che c'è stato in un video? E' questa luce di merda E' un video Vai capa cura se è questa luce di merda Che c'è stato in un video Violente Yeah, I'm GMT Che c'è stato in un video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti